L'Isola dei Famosi, è tutto pilotato Striscia la notizia presenta alcune prove secondo le quali la produzione del reality avrebbe influenzato le scelte dei concorrenti. Cancelletto striscia la notizia non si placca e continua la sua crociata contro L'Isola dei Famosi. . Da quando, nella seconda puntata del reality, Eva Enger ha accusato Francesco Monte di aver portato la droga nel programma, striscia la notizia non ha ancora mollato la presa sulla vicenda. Anzi, più passa il tempo e più il programma di Antonio Ricci porta prove a sostegno della ex pornostar. Striscia la notizia e le prove audio. La prima vera prova audio è stata portata ad Alessia Marcuzzi da Valerio Staffelli e Max Laudadio. In questa intercettazione o registrazione audio si sente la blogger Chiara Nasti confermare tutto ciò che Eva Enger ha raccontato. Non solo, ma la ragazza ha fatto anche altri nomi. La nuova prova ha alimentato di battiti e scontri tv, in particolare a mattino 5 e pomeriggio 5. Non soddisfatti, i due inviati di striscia la notizia hanno poi portato un'ulteriore prova audio, video, questa volta a Domenica Live da Barbara D'Urso. Quest'ultima è rimasta molto colpita da ciò che ha sentito nella seconda prova audio, ma non ha potuto rivelare ciò che ha sentito e non potrà farlo, su richiesta di Staffelli e Laudadio, per rispetto della privacy. Sarà svelata, col tempo, anche questa registrazione? Striscia la notizia e i fuori onda. L'accanimento verso Magnolia, la produzione che si occupa del reality in Honduras, è continuato anche nella puntata di Striscia la notizia del 27 febbraio. Sono stati mostrati dei fuori onda davvero interessanti. Il primo riguarda ancora una volta Chiara Nasti, la quale ha affermato che i concorrenti dell'Isola dei Famosi non erano liberi di fare le nomination. Andrea Marchi, responsabile dei meccanismi di gioco del programma, avrebbe, secondo la blogger, chiesto ai concorrenti che avessero intenzione di votare e alla risposta di questi ultimi, l'autore avrebbe cercato di convincere i VIP a fare un nome piuttosto di un altro. La stessa cosa trapela dal secondo fuori onda trasmesso dal programma di Antonio Ricci, la protagonista è Nadia Rinaldi. L'attrice, intervistata da Valerio Staffelli, in un momento di pausa, ha affermato che Andrea Marchi avrebbe cercato di non far votare Filippo Nardi perché doveva andare avanti sull'Isola. Questa teoria sarebbe supportata, secondo striscia la notizia, dalla reazione di estrema sorpresa dello stesso Filippo Nardi al momento della sua eliminazione. Che cosa sta veramente succedendo in Honduras? Come mai striscia la notizia non si ferma nelle accuse contro i reality?.